L'Inter ha lo scudetto cucito sull'appetto, potrebbe confermarlo, potrebbe toglierlo, però la stagione ha soddisfatto i tifosi, sono arrivati due trofei, Coppa Italia e Supercoppa di Lega, entrambi contro la Juventus, proveranno l'ultima decisiva in presa, quella del sorpasso ma non dipende solo da loro, l'Inter deve assolutamente vincere con ogni altro risultato. Il Milan ha una scultura perdere a Reggio Emilia e sono due i punti di vantaggio dei rossoneri e quindi l'Inter non può prescindere dai tre punti e poi sentire che cosa succede a Reggio Emilia. Ci sono i due capitani che stanno effettuando lo scambio dei Gagliardetti.